partiti lungo la corda per un attimo Pertinace in vantaggio poi scatta Hot Type a centro pista e dislancio prende il comando quindi Hot Type Pertinace a Tenolo a largo special rush poi ancora Patos d'amore Cavalli ora poco prima dell'imbocco della curva con Hot Type in leggero vantaggio nei confronti di Pertinace special rush ancora Patos d'amore a Tenolo quindi Fax File Cassi Girl e gli altri chiusi da Cassi Girl Cavalli ora lungo la curva sempre Hot Type in vantaggio Pertinace in seconda posizione davanti a special rush quindi a Tenolo che avanza all'esterno Patos d'amore per linee interne insieme a Intenzionado più a largo e Bridge Cronos con in coda Fax File Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con in vantaggio sempre Hot Type avvicinato da Atenolo che si trascina all'interno Intenzionado più a centro pista special rush con a largo ancora Patos d'amore Cala O-Type passa Pertinace impegnata all'interno da Intenzionado a largo special rush e Patos d'amore siamo a 250 dal palo e passato Intenzionado nei confronti di Pertinace quindi special rush per linee interne Fax File quindi anche Patos d'amore a largo mentre Intenzionado ha preso largo vantaggio nei confronti degli avversari tra i quali all'interno sta emergendo Fax File a conquistare il posto d'onore davanti a special rush Pertinace e al quinto posto Patos d'amore Andiamo a rivedere questa bella affermazione di Germano Marcelli razza dell'ormo Riccardo Menichetti in sella Intenzionado numero sei di questa quinta corsa di Agnano al primo posto al posto d'onore il quattro di Fax File al terzo il nove di special rush sull'otto di Pertinace dunque arrivo probabile ufficioso della quinta di Napoli sei quattro nove Grazie a tutti